Più facile e più conveniente per farlo direttamente sullo spazio di lavoro, fare doppio clic sul pulsante sinistro del mouse sul testo per apportare le modifiche necessarie. Selezionare il testo del pulsante sinistro del mouse, il tasto destro del mouse per causare il menu a discesa, e attivare il comando Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà, sui contenuti del contenuto Cambiamento e premere Invio. Le modifiche vengono immediatamente visualizzati nel campo di lavoro. Grazie a tutti.